Marcello, veni qui! In cambio non chiedono nulla, ci sarà solo una targa di 30 cm x 40 cm che ricorda chi ha finanziato il progetto. Dopo l'intervento sul Colosseo finanziato da Della Valle, tuttora al centro delle polemiche per la lungaggine delle procedure, per la Fontana di Trevi si assicurano tempi certi, grazie a uno snellimento dell'iter burocratico. Adesso si cercano 4 milioni di euro per il restauro del Masoleo di Augusto, imperatore che portando l'acqua sino alle termine del Pantheon riempì tutte le fontane della sua epoca. A presto!